Musica 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 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, l'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Musica Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Eccomi, sono la serva del Signore. Musica Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. E' il verbo, si è fatto carne. E vedi ad abitare il mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo fatti bene delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi la tua grazia, oh Signore, nei nostri cuori, perché noi che all'annuncio dell'Angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo, nostro Signore. Amo. Preghiamo ora il Santo Rosario. Meditiamo i misteri del dolore. Il primo mistero ci porta nell'orto degli olivi. Gesù prega, soffre e suda sangue e prende sulle sue spalle il peso di tutti i nostri peccati. Noi siamo la sofferenza di Dio. E Dio reagisce con un amore più grande della nostra cattiveria e la vince così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della tua croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Ame. Il secondo mistero del dolore ci presenta Gesù, che viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. D'anzi oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana, e l'hai trovata ostile a Dio, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Quanto siamo illusi! Signore, accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà, che riempie il cuore di vera felicità. Amen. Il terzo mistero del dolore ci presenta Gesù, che viene coronato di spine, deriso, umiliato, addirittura schiaffeggiato dal servo del sommo sacerdote. È una scena che ferisce il cuore, perché l'abbiamo costruita noi, soprattutto con i peccati di orgoglio. Padre nostro che se ne scegli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Danci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazioni, ma rimarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Signore Gesù, il pianto delle mamme di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di un'esecuzione capitale, e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce, in presenza che parla. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuta tutte le mamme ad essere veramente mamme, e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Il quarto mistero del dolore. Ci presenta Gesù, che portando la croce cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Sirene e confortato dalla presenza di Maria. Padre nostro che se ne scegli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, per rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, niera di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, niera di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, niera di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, niera di grazia, il Signore è con te. Adesso è niera di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, niera di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, niera di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Amen. Il quinto mistero del dolore ci porta sul Calvario. Gesù muore in croce, muore per amore nostro e da quel momento inizia nel mondo un'inondazione di amore, di misericordia, che ora bussa alla porta del nostro cuore e aspetta la risposta. Padre nostro che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Lassi oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri tepitori, e non ci indurre in tentazione, ma rimbracere al male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere, soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza e unico liberatore, unica gioia e unica verità, che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi, peccatori, particolarmente in questo momento. Amen. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sì tu il nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il dominio su di Lui. Preghiamo, supplichevoli. E tu, Principe della milizia celeste, con la forza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si agirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, cementi e piangenti in questa valle di l'acqua. O su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergine, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre Buonissima, prega per noi, Madre Castissimo, prega per noi, Madre sempre Vergine, prega per noi, Madre immacolata, prega per noi, Madre legna d'amore, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Madre di Vicericordio, prega per noi, Vergine prudentissima, prega per noi, Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine credente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, specchio della Santità Divina, prega per noi, Sede della Sapienza, prega per noi, Pausa della nostra Letizia, prega per noi, Sede della Sapienza, prega per noi, Pausa della nostra Letizia, prega per noi, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi, Rosa Mistica, prega per noi, Torre di Davide, prega per noi, Torre di Davide, prega per noi, Torre d'Avonia, prega per noi, Casa d'Ono, prega per noi, Arca dell'alleanza, prega per noi, Orca del cielo, prega per noi, Stella del mattino, prega per noi, Salute degli infermi, prega per noi, Rifugio dei peccatori, prega per noi, Consolatrice degli affetti, prega per noi, Aiuto dei cristiani, prega per noi, Regina degli angeli, prega per noi, Regina dei patriarchi, prega per noi, Regina dei profeti, prega per noi, Regina degli apostoli, prega per noi, Regina dei morti, prega per noi, Regina dei beni cristiani, prega per noi, Regina delle vergine, prega per noi, Regina di tutti i santi, prega per noi, Regina concepita senza peccato originale, prega per noi, Regina assurta in cielo, prega per noi, Regina del santo rosario, prega per noi, Regina della famiglia, prega per noi, Regina della famiglia, prega per noi, Regina della pace, prega per noi, Regina dei figli, 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 prega per noi, Regina Preghiamo per i sacerdoti che in questo periodo, insieme ai medici, agli operatori sanitari, stanno veramente dimostrando una straordinaria bontà, una straordinaria dedizione, spendendosi per gli ammalati. Signore Gesù, Tu hai chiamato Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni e una schiera innumerevole di uomini ai quali hai regalato la Tua fiducia per continuare la Tua opera, per seminare la vera speranza, per curare l'infelicità umana. Grazie, Signore, per il dono del sacerdozio. Grazie per aver chiamato degli uomini peccatori a lottare contro il peccato degli uomini. Donaci, oh Signore, uno stupore inesauribile e una fede grande per accogliere questo dono che nasconde il dono del Tuo amore. Grazie, Signore, per averci amato così. Grazie per il sacerdote che ci ha battezzato, per il sacerdote che ci ha dato il primo perdono, per i sacerdoti che ci perdonano ogni giorno e ogni giorno ci regalano la Santa Eucaristia. Grazie per il sacerdote che ci darà l'ultimo perdono nell'ultimo giorno della nostra vita. Signore, abbi pietà di noi e manda oggi santi sacerdoti alla Tua Chiesa. Amen. Invochiamo ora la benedizione del Signore, perché entri in ogni casa, porti conforto, asciughi le lacrime e dia forza a tutti coloro che soccorrono gli ammalati in questa grande epidemia. Per l'intercessione di Maria Immacolata, vi liberi da ogni male, vi conforti, vi riempie il cuore di pace, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amo. Nel nome del Signore, andate in pace. Grazie a Dio. 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 Grazie a Dio.